E poi succede questo, in un tombale venerdì, Di Marzio butta la bomba, Hakimi ragazzi, quasi fatta per l'Inter, non ci voglio credere ragazzi, non ci voglio credere, Hakimi, Akraf Hakimi, giocatore del Bruxio Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid, è stato accostato all'Inter, non vi sto qui a spiegare quanto sono contento, sto già preparando un video in cui vi spiego, anzi analizzeremo insieme le 10 curiosità che sicuramente non saprete su Hakimi e che le sto studiando già adesso, quindi ragazzi, cliccate mi piace e parliamo un attimo di questo possibile acquisto. Gianluca Di Marzio, su Twitter vi posto, vi linko quello che ho appena detto, Hakimi Inter, l'operazione è in chiusura, accordo ai dettagli tra i club, titolo definitivo per circa 40 milioni di euro. E questo ragazzi è veramente un'operazione incredibile dei nerazzurri, soprattutto per quella fascia ragazzi, soprattutto per quella fascia dove abbiamo Dalbert, abbiamo Samoa, abbiamo Biraki, mamma mia abbiamo Young, ragazzi basta, non diciamo più niente, andiamo a cercare un po', vi faccio vedere ragazzi le statistiche di Transfermarkt di questo calciatore. Guardate qui, nel 19-20 quello che ha fatto ragazzi, 44 partite da diciamo giocate con il Borussia Dortmund, 5 gol in campionato e 10 assist, 4 gol in Champions League ragazzi, tra cui uno ce l'ha fatto anche a noi, ottimo, veramente tanta tanta roba ragazzi, un giocatore incredibile. Il suo valore attuale è di 54 milioni, è stato aggiornato l'8 aprile, quindi l'operazione di chiusura a 40 milioni di euro, 21 anni, 1 metro e 81, è il profilo perfetto per l'Inter di Conte, perché è un giocatore molto abile nella difesa, ma prediligia tanto andare in avanti, come vedete anche dagli assist che continua a fare. Operazione incredibile ragazzi, veramente non c'è ancora l'ufficialità, può giocare a sinistra e a destra e anche come centrocampista di destra, quindi praticamente molto d'utile, può fare entrambe le fasce. Ragazzi, se questo video raggiunge 50 mi piace, entro domani avrete il video delle 10 curiosità su Hakimi ragazzi, mi raccomando, spolliciate qui sotto se siete contenti di questa possibilità, di questa possibilità di avere Hakimi all'Inter. Mi raccomando, cliccate cliccate, ricordatevi che stasera ore 21 sulla piattaforma Viola, ci sarà una live con gladiatore giallorosso, quindi mi raccomando puntato la sveglia, scrivetemi qui sotto se ci sarete, grande grande notizia questa di Hakimi all'Inter. Mi raccomando, fate tutto quello che vi ho detto, iscrivetevi al canale e attivate la campanina, ci vediamo presto con questo video delle curiosità, speriamo bene, ciao ragazzi.